Per carità è una candidatura legittima, il congresso c'è nel 2017, io credo che noi siamo a metà del percorso della segreteria di Renzi perché appunto abbiamo fatto un congresso due anni fa, due ne mancano, non vorrei che aprissimo già adesso il prossimo congresso perché ancora abbiamo tante cose da fare, noi abbiamo non solo da governare il paese che è la cosa più importante ma anche da riformare il Partito Democratico, di cambiarne le modalità di funzionamento riscrivendo lo statuto quindi prima di aprire una competizione congressuale cercherei di far funzionare meglio il Partito Democratico